Quale futuro per la nostra regione? Se ne è parlato la Camera del Lavoro di Reggio Emilia mercoledì 2 dicembre per iniziativa del sindacato pensionati SPCGL. Stamattina questa iniziativa per tentare di semplificare la materia della sanità, per fare il punto di quale tipo di sanità noi abbiamo nel nostro paese, soprattutto nella nostra regione, e stamattina è venuto fuori proprio uno spaccato dove la sanità nella nostra regione ha davvero dei livelli molto importanti dal punto di vista qualitativo, ma che però ci pone una serie di interrogativi per quello che riguarda quali effetti i tagli che sono previsti dalle leggi di stabilità avranno su questo sistema emiliano-romagnolo, ma soprattutto anche se tutto quello che è in programma dalla nostra regione riesce ad essere realizzato puntualmente. Credo che noi come sindacato oggi ci dobbiamo anche porre un obiettivo, che è quello di salvaguardare al massimo quelli che sono i livelli della nostra sanità pubblica. In Emilia Romagna è in corso un processo di grande trasformazione del sistema sanitario che riguarda la riorganizzazione della rete ospedaliera, le nuove strutture dell'assistenza territoriale con l'apertura delle case della salute e gli interventi sui tempi di attesa. Nella nostra regione molti processi sono già in corso con degli effetti molto positivi, rimane ovviamente da lavorare per completare questi processi e quindi ragionare sugli ospedali per acuti che devono essere sempre più qualificati, ragionare sulla rete territoriale che deve essere diffusa nel territorio per rispondere ai bisogni della popolazione, soprattutto la popolazione anziana che può avere la necessità di luoghi in cui essere trattata nel cambio fra ospedale e casa. Quindi processi importanti, significativi, che secondo me qualificano la nostra assistenza sanitaria e contribuiscono a mantenerla ad un livello di eccellenza sia in Italia che nel confronto con le situazioni europee. Una riflessione particolare è stata rivolta alla creazione delle aree vaste che è in pratica un meccanismo per ottimizzare costi e prestazioni. Per Reggio Emilia l'esempio è quello del magazzino del farmaco di Reggio che gestisce l'approvvigionamento per tutta l'Emilia Nord, un modo per ottenere prezzi più vantaggiosi lavorando su una scala maggiore mantenendo la qualità del servizio. C'è un ruolo importante che il sindacato può giocare, il sindacato dei pensionati, il sindacato confederale ovviamente, nella gestione di questi processi di trasformazione perché in ogni territorio siano resi adatti alle necessità delle persone che in quel territorio abitano.